Dopo una canzoncina insieme ce la facciamo, eh? Saluto signor! Ciao, chi sei? Come ti chiami? Raffaele. Raffaele, ma è bello, eh? Raffaele, ha detto proprio bello, bello, bello. Oh, eh, però, attenzione, io volevo anche far notare l'eleganza della signorina, la sobrietà. Attacchetta, questo dovagliolo che deve sergato. No, se scherzo, è un fulano molto fine. Gli l'hanno regalato lui, cioè, a che pancrease stasi lì. No, eccolo, gli l'hanno regalato lui, ma se l'hanno regalato lui, allora mi ha capito tutto il mondo. Vabbè, non scherzo, cioè, voglio dire, va bene, ecco. Poi ci sono anche le compie, quelle un po' di strappo e quelle concentrati. Cioè, stanno rispondendo un milionario. Ah, un po' di mal di testa, lo risuono. Shhh. E poi, ecco, ci stavo, stavo notando. E poi, ecco, lui, guardate come sguazza in mezzo a tante donne, questo qui. Mi fa quasi labia, questo signore, questo fanciullo. Eccolo, eccolo, guardate, lo guardiamo così. Eccolo, guardate.